Bella corsa presidenziale, signore. Ogni giorno ho la stessa battuta. Come hai fatto a diventare così? Barbon e scelte sbagliate. Con un livello di sicurezza senza precedenti, questo non è solo un incontro fra i più potenti leader della Terra. È anche l'evento più blindato del pianeta. Benvenuto a Londra, signor Presidente. Che succede? Niente. Mi sto annoiando a morte. Un attacco ha devastato la capitale britannica. Cinque capi di Stato sono morti. Venga, non partiamo via da qui! Il Presidente degli Stati Uniti è ufficialmente disperso. Per i nostri amici dell'Ovest. Barcaui. È il terzo terrorista più ricercato. Che cosa vuoi? Il vostro Presidente. Questo non accadrà mai. D'ora in poi ogni morte peserà sulle vostre coscienze. Dobbiamo trovare Barcaui prima che lui trovi il Presidente. Non permettere che mi prendano e se dovessero farcela uccidimi. È un ordine. Londra è solo il primo passo. Immaginate tutte le grandi città sprofondare nel caos. a coloro che minacciano la nostra libertà l'America darà la sua risposta. A volte andiamo! Vi troveremo e vi distruggeremo. Ma è che ti portiamo fuori. Vai, vai, vai! Sesto, ore tre! Preparatevi all'impatto. Oh mio Dio.